Buonasera, ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato all'informazione sportiva che questa sera dedichiamo in realtà ad un approfondimento visto questo periodo natalizio. Lo abbiamo catturato, rintracciato e portato qua a San Marino RTV, impegnatissimo Manuel Poggialli, bentornato. Grazie, grazie Elia, buonasera a tutti e buone feste. Allora Manuel, io ho detto così perché questo è un periodo dell'anno nel quale si spengono veramente i motori, completamente si stacca un po' la spina rispetto a tutto quello che è stata la stagione che è appena conclusa, possiamo dire così? Sì, la stagione chiusa ormai un mesetto fa, è stata una stagione bella e intensa, soprattutto nella parte finale perché insomma il calendario era bello fitto di gare esteroopee quindi spesso fuori con tutto quello che poi ne consegue. Però diciamo che la cosa positiva è che è stato un campionato per noi positivo, scusa il gioco di parole, ma comunque dove abbiamo fatto molto bene, soprattutto la parte di finale ci ha visto sempre protagonisti per cui devo dire che il lavoro di squadra, il lavoro della Gresini insomma in questo caso è stato proficuo, proficuo come spesso è accaduto. Senti ma durante il periodo così natalizio ma anche di Capodanno va molto di modello rosso, ti piace il rosso a te come colore? Mi piace, mi piace, dei bei ricordi in rosso e il rosso sarà poi il colore del mio prossimo futuro per cui sono molto molto orgoglioso e contento di aver avuto questa possibilità. Quando Gigi me lo ha proposto ero quasi incredulo perché poi è venuto in un momento dove insomma sui campi gara quindi concentrato magari sull'operatività del momento ed è stato un po' un fulmine cercereno ma che fin da subito insomma mi ha fatto capire un po' che comunque stavo facendo bene il mio e che c'era la necessità da parte loro di avere una figura come la mia e diciamo che non ci abbiamo messo troppo ad accordarci. Allora la spieghiamo un po' magari anche per chi non segue sempre il moto mondiale, il mondo dei motori anche se ormai è una notizia che è ufficiale da oltre un mese, io ti porto in realtà a Valencia perché sarà una coincidenza ma a te Valencia ti porta proprio bene no? Perché a Valencia proprio vent'anni fa è arrivato la vittoria del mondiale, del tuo secondo mondiale e proprio a Valencia è stata ufficializzata questo passaggio. Noi tra l'altro abbiamo recuperato queste immagini che all'epoca sono uscite sul tuo profilo social che sono veramente molto divertenti, di fatto un passaggio di testimone si direbbe no Manuel qua passi dal team Grisini al team Ducati ufficiale, le vuoi commentare? Ma è stato un momento, ero in meeting con il capo tecnico di Alex e a un certo punto sono arrivati gli uomini Ducati capitanati da Leo, quel ragazzo con la corona e loro stavano già festeggiando ovviamente il mondiale di pecco e niente immediatamente mi hanno catturato, vieni di qua in maniera molto cauta legandomi spuderatamente però è stata una scena molto carina, divertente e soprattutto un bel momento insomma perché poi capisco che la tensione per loro fosse veramente molto molto alta quando ci si gioca un mondiale so bene cosa ci si vive per cui assolutamente dopo un successo del genere è doveroso fare festa ed è stato bello poter essere coinvolto in maniera molto simpatica in tutto questo. Guarda hai detto proprio una cosa alla quale leggo la prossima domanda Manuel perché mi ha colpito questo aspetto cioè nel giorno della Ducati, nel giorno di pecco bagnaia perché quello è un giorno di grande festa per il secondo mondiale conquistato da bagnaia hanno trovato lo spazio, il tempo per fare anche questa cosa con te a conferma del gruppo, mi pare che ci sia proprio questo concetto di gruppo perché poteva avvenire anche il giorno dopo durante i test e via dicendo invece c'è stato lo spazio per Manuel Poggiali Sì sì è stato davvero un momento molto bello so quanto anche pecco, i uomini Ducati e Nea stesso insomma abbiano comunque spinto per me e questo naturalmente non fa altro che rendermi orgoglioso e soprattutto voglioso di fare bene e di costruire i prossimi successi ormai non manca tanto all'inizio della nuova stagione per cui ci faremo sicuramente trovare pronti sarà un mondiale come sempre difficilissimo ogni anno lo è sempre di più però ecco noi abbiamo le spalle larghe ci faremo, sgomiteremo per essere là davanti dove meritiamo di essere Tu sarai rider coach, naturalmente coach, ufficiale Ducati quindi avrai a che fare con una vecchia conoscenza come Bastianini ma avrai a che fare anche con un due volte campione del mondo due volte consecutiva, tre mondiali anzi facevamo il calcolo prima tra i mondiali tuoi, i mondiali di Pecco, quello di Bastianini e anche quelli dei fratelli Marquez 16 mondiali e poi mancano quelli Ducati sì, 16 mondiali è un bel numero in questo caso andrei meglio a condividerli perché Marquez alza sicuramente l'asticella Pecco di sicuro con questo secondo titolo consecutivo e terzo della sua carriera è comunque in una linea davvero positiva e sì, poi c'è Nea, c'è Alex io insomma l'anno prossimo avrò davvero un bel da fare avrò da fare con ragazzi soprattutto eccezionali che mi hanno da subito dimostrato grandissima disponibilità non è una condizione, è una situazione diciamo garantita quindi questo è merito della fiducia magari maturata di quella che sicuramente ancora dovrà essere maturata con i miei due nuovi quindi Pecco in particolare e Mark però ecco, sono pronto sono consapevole, pronto del valore che posso portare alla causa a proposito di valore grande valore proprio per questo ruolo questo ruolo da rider coach perché comunque il team più forte il team campione del mondo col pilota campione del mondo con alcuni dei piloti più forti ha scelto Manuel Poggiale sì, questo probabilmente significa che comunque ho fatto bene naturalmente Gigi non è una persona che sceglie a caso quindi questo mi rende ancora più contento e orgoglioso di questa richiesta e di questa poi scelta che ho fatto niente, il resto ormai è solo per attività risultati che cercheremo ovviamente di conseguire strada facendo sono pronto e con i ragazzi con la squadra, con tutti quanti ci faremo trovare pronti al momento giusto ti volevo chiedere anche qualcosa su proprio l'ultima gara di Valencia perché diciamo che il fatto che Martina sia caduto dopo sei giri un po' di sospiro di sollievo nel box Ducati c'è stato sì Martina era molto veloce quel weekend aveva anche meno da perdere rispetto a Pecco ha fatto questo errore diciamo nelle fasi iniziali di gara uscendo di pista rientrando in maniera anche abbastanza così pericolosa da un certo punto di vista ma trovandosi comunque nelle retrovie nel tentativo di risalire cosa non semplice nella MotoGP di oggi è inciampato in questa caduta toccando Marche finendo rovinosamente a terra ma soprattutto perdendo qualsiasi possibilità di vincere il mondiale insomma di giocarsi lo stesso per Pecco da quel momento è stato sicuramente un po' più semplice anche se in maniera molto confidenziale insomma non ha visto la tabella dove gli avevano segnalato insomma che Martina non faceva più parte della gara quindi poteva sicuramente guidare in maniera più serena ha comunque vinto la gara quindi quando si vince il mondiale e vincendo anche la gara insomma è una cosa che a me personalmente è mancata ma penso che sia una soddisfazione davvero molto molto importante la ciliegina sulla torta che va a arricchire quella stagione che ti ha regalato davvero tantissime emozioni e probabilmente è un nuovo sogno Allora siamo praticamente quasi in chiusura di questo spazio e io ti chiedo quest'ultima cosa per quanto riguarda il 2024 allora Pecco Bagnai all'uomo da battere chi saranno gli avversari di Pecco Bagnaia? Tanti, tanti prevedo comunque una stagione davvero molto complicata i piloti Ducati secondo me sono veramente tutti molto forti e competitivi per cui non escluderei nessuno in questo momento per il successo finale non sottovaluterei neanche la concorrenza a prescindere perché KTM sta facendo un ottimo lavoro perché Aprilia comunque è una realtà consolidata poi avranno le concessioni, i regolamenti che gli renderanno più facile determinate cose mentre a Ducati insomma ci hanno messo un po' di paletti e quindi di impossibilità di lavorare in un certo modo ma ci può anche stare per lo spettacolo è chiaro che è una di quelle condizioni che Tarpalda e Lealia insomma nel professionismo comunque nella sperimentazione nell'innovazione è sempre uno scenario un po' così strano però ciò non toglie che sicuramente faremo bene questo ne sono convinto Perfetto, noi ringraziamo Manuel Poggialli grazie Manuel, bocca al lupo per il 2024 e buon anno, buon anno a tutti Noi ci fermiamo qui adesso c'è la pubblicità a seguire il TG San Marino Grazie